Pronto, signore! Ordini! Diciamo bene, perché tu vuole londere. La certale, io credo, probabilmente per te autorizzare le tue un qualche Appe elongato dalla'ma! Pronto, prego! Gente! Stiamo bene, stiamo. In un'occhiavere rinitagemata! Come abbiamo dues. Grazie a tutti Grazie a tutti Sì signore Formazione Sì signore Attento Sì signore 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 Comandi! Pronto all'azione! Pronto, signore! Sì, signore! Pronto! Formazione! Formazione! Ordini! Comandi! Pronto! 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 all'azione all'azione no 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 attento no 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 Grazie a tutti Pronto signore Pronto Pronto all'azione Formazione Pronto 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 Formazione! Sì, signore! Commandi! Ordini! Ordini! Pronto all'azione Pronto Pronto Formazione Ordini Pronto signori Ordini Forza, forza Ordini Attento Non fermatevi Avanzate Pronto Andiamo Continuate l'attacco Pronto signore La tua attento ordini avanzate si signore pronto formazione ordini comandi 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 atenti comandi 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 Pronto, signore. Ordini.